Maria è amore e la misericordia è la sua forma di espressione. La madre di Cristo è madre di misericordia, un ponte tra noi e il divino. Una riflessione che ci deve accompagnare la lettura del nuovo libro di Anna Maria Gargiulo, Maria, mia misericordia, presentato a Massa Lubrenze per il Giubileo, come approfondimento nella devozione a Maria, madre di amore e di pace tra il nord e il sud del mondo. Nell'anno del Giubileo un libro su Maria, madre di misericordia, perché? Perché Maria è la Chiesa, è la Chiesa e Maria. Questo Papa vuole che in quest'anno riflettiamo sul significato stesso della vita e ci avviciniamo anche alle persone di altre religioni e altre culture. E Maria è l'unica donna che nella storia ha avvicinato tutte le religioni e tutte le culture. Ne hanno discusso approfondendone le tematiche insieme al giornalista Ermanno Corsi, autore dell'introduzione, il sindaco di Massa Lubrenze Lorenzo Balduscelli, la consigliera regionale Flora Beneduce e gli ex parlamentari Enzo Rivellini e Raffaele Lauro, subito coinvolti dalla Gargiulo nell'affidamento di 10 adozioni internazionali, già pagate dal libro. 5 con l'Unicef e 5 con la Pangea, impegnate in Afghanistan, India e Burundi per stimolare tutti ad un atto di misericordia nell'anno giubilare.